Adriano Rispoli, portiere della Pontina Futsal, oggi hai retto un muro, il segnale di vedo d'accesso agli attaccanti avversari, non passavano mai? Una bella soddisfazione, una bellissima partita, una squadra fortissima, Futsal Latina complimenti, però ne ho difeso bene, io ho fatto il mio, sono molto soddisfatto per il risultato e anche per la prestazione. Io ho contato almeno otto parate fondamentali, decisive da parte tua, anche se poi non sarebbe nemmeno giusto dire che la vittoria è soltanto tua, i tuoi compagni hanno fatto il loro? Assolutamente, io ho fatto il mio, i miei compagni hanno fatto il loro, noi siamo stati molto bravi a fare il 3-2 dopo il 2 pari perché è un momento difficile, siamo stati molto bravi e a quel momento poi la partita era praticamente finita e abbiamo retto ancora, siamo stati tutti molto bravi. Il tuo allenatore non si è voluto sbilanciare sulle possibilità della tua squadra, tu che cosa pensi sinceramente? Io anche non mi sbilancio assolutamente, penso che dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, umili, dobbiamo crescere, la squadra come ho già detto un'altra volta per la metà è nuova, quindi comunque dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo fatto due ottimi risultati in trasferta contro due ottime squadre, contro la Ginnastic, Fondi e la Futsal Latina, quindi noi dobbiamo continuare a lavorare così e poi vedremo col passare, siamo solo alla quarta partita, quindi c'è tempo. Michele Di Pastena, una partita persa in maniera molto amara, soprattutto tante e tantissime occasioni da gol, cosa è mancata la tua squadra oggi? Credo sia mancato lo spunto finale, sia in fase difensiva che in fase offensiva, anche sul secondo palo, l'ultimo l'abbiamo preso sul secondo, quindi qualche volta siamo mancati sul secondo palo e è mancato un po' questo, credo. Due errori forse fondamentali, aver preso il gol dopo un minuto di gioco e aver commesso quel sesto fallo alla fine? D'accordo, sì, sono d'accordo, abbiamo forse errato troppo, ci siamo caricati di falli soprattutto al primo tempo, anche falli in attacco che è un errore che poi ci ha costato parecchio caro, forse perché giocando in casa ci tenevamo a mettere su un po' di agonismo, però purtroppo in questo sport questi errori si pagano in questo modo, loro hanno fatto cosa, sono stati più bravi di noi. Emiliano Bizzarri, bomber della squadra del Pontina Fuzza, l'assegno anche oggi il secondo gol, una vittoria convincente soprattutto perché la strategia è stata giusta. Il mister ci ha detto di giocare così, chiusi dietro le ripartenze, abbiamo sfruttato le nostre occasioni anche se ci siamo mangiati in paio di go davanti alla porta, abbiamo vinto con una dei pretendenti al titolo, quindi siamo lì. A questo punto diciamo che anche voi potete dire la vostra per quel che riguarda la vittoria finale, tu cosa pensi, qual è la tua opinione? Ci sono due o tre squadre che sono state costruite per vincere, noi siamo stati costruiti per migliorare, l'anno scorso siamo nei processi, quindi una cosina di più abbiamo fatto già. Enrico Pasquale Coluzzi per il Mondofuzzatv.